Buonasera a tutti, cari San Pietresi, anche per sciogliere un po' così il ghiaccio, vi ringrazio dell'applauso. Rinnovo i miei saluti, cari San Pietresi siamo molto onorati della vostra presenza in questo momento importante di presentazione della nostra lista. Noi, lista civica Riscossa San Pietrese, siamo qui per presentarci alla cittadinanza e prenderci un impegno se il consenso dei cittadini ci sarà favorevole, mettere la nostra intelligenza, il nostro tempo, la nostra chiarezza al servizio della comunità tutta, al servizio di noi tutti. In questa lista, Riscossa San Pietrese, siamo donne e uomini, giovani, liberi di fare politica, per passione e non per bisogno, liberi di non accettare compromessi, non liberi di crescere, come dice qualcuno, ma piuttosto liberi di far crescere anche gli altri, liberi di sognare un paese orgoglioso e consapevole, civile e generoso, accogliente e tollerante, civile e, scusate, unito nelle sue differenze, attento alla sicurezza, intrassigente contro la corruzione e il clientalismo, capace di mettere in moto lo sviluppo economico e sociale, un paese che punti alla legalità e al senso civico, difenda e valorizzi l'ambiente, promuova il turismo, si adoperi per l'autonomia del territorio, che investa nelle risorse umane in genere nelle giovani generazioni, in particolare quindi chi abbia voglia di investire nella cultura, nella formazione e nella scuola, che promuova le pari opportunità, tuteli le famiglie, i giovani le fasce deboli, premi la dignità del lavoro e garantisca l'interesse comune. Il mio compito stasera non è solo quello di presentare i compagni candidati in questa lista, dove vede come candidato a sindaco il signor Nicola Giuliano e come candidato vice sindaco Giovanni Davoli, ma anche quello di presentare me stessa. Signori, io mi chiamo Michela Diaco, per me prima esperienza politica. In molti mi conoscete come figura di spettacolo, ma dopo lunghi anni e con molti sacrifici ho raggiunto il mio obiettivo che mi vede come figura professionale, quale architetto dell'ingegneria edile. A tal proposito ho deciso di candidarmi nella lista riscossa sanpietrese per mettere al servizio della comunità tutta il mio sapere, professionale, nell'ambito urbanistico e delle opere pubbliche. Infatti il primo traguardo da raggiungere è l'approvazione ed elaborazione del PSA, Piano Strutturale Associato. L'intenzione principale è di incentivare la ristrutturazione delle abitazioni a favore dei cittadini bisognosi, utilizzando tutte le forme di finanziamento, prestando così maggiore attenzione ai quartieri e marginati, quali case popolari, via Cavour e le strade interpoderali anche perché queste costituiscono le infrastrutture primarie per la nostra agricoltura. Un'altra proposta di intervento è l'eliminazione dei paletti sulla Pietrantonio Sgro per favorire la sosta delle vetture, tutto ciò a favore dei commercianti. Il programma per quanto riguarda la rete idrica locale prevede la sostituzione dei vecchi contatori dell'acqua con i nuovi e moderni contatori digitali wifi per ridurre utilizzi fraudolenti aumentando in tal modo l'approvvigionamento autonomo delle risorse idiche comunali. Per me signori fare politica significa amministrare per gli altri e non per se stessi, per tutti e non per pochi. Politica per me, al contrario di come pensano alcuni, vuol dire servizio e non potere. Questo è il valore etico della politica che forse un po' è andato perso e noto a tutti, credo, il mio attaccamento a questo paese. Ne sono testimonianze, le innumerevoli iniziative da me proposte. Non siamo, signori, dei burattini nelle mani di nessuno, come strumentalmente si è cercato di farci apparire. Abbiamo un'identità, una dignità e portiamo avanti un progetto che interessa, ripeto, la collettività tutta. Ci conoscete sicuramente tutti perché siamo gente di questo paese, gente rispettabile che vive e lavora in questo territorio. Vi prego signori di prestare ascolto perché uno per volta chiamerò i miei compagni candidati nella lista, i quali interverranno e adesso voglio presentare, cedo comunque la parola al candidato vice sindaco Giovanni Davoli. Bene, eccoci qua. Buonasera a tutti. È la prima regola di democrazia educativa. Intanto una notizia, il 26 maggio metteremo qua una postazione internet perché altrimenti non possiamo utilizzare nuove tecnologie ed è un peccato avere questa struttura e non avere internet, quindi questo lo faremo come primo punto, cioè proprio quello immediato. Noi, Michela diceva che presentiamo stasera la nostra lista e ringrazio tutti i miei colleghi, candidati che sono subito tuffati in questa avventura sociale, alcuni per la prima volta, altri è una continuazione dell'attività amministrativa. Li ringrazio per la grinta, per la determinazione che stanno mettendo in campo e le idee che hanno portato. Un ringraziamento particolare va a tutti voi, siete numerosissimi, la sala non è piena sotto ma è piena sopra, quindi un ringraziamento a tutti voi e a tutti quelli che ci stanno ascoltando via streaming, diretta streaming, quindi noi utilizzeremo questi canali e già l'esempio che portiamo oggi lo faremo anche durante i consigli comunali, questa è una vecchia mia proposta del 2009, quindi faremo subito quest'altra iniziativa. Mi presento con l'investitura, ecco allora faccio una voce più costruita, l'investitura della candidatura a vice sindaco, quale massimo rappresentante del Partito Democratico di San Pietro Ammaida e quale consigliere uscente sia del Consiglio Comunale di San Pietro Ammaida sia dell'Unione dei Comuni. Il mio partito mi aveva invitato a candidarmi anche a sindaco e anche a valutare l'ipotesi di un passo indietro. Io ho valutato bene, essendo io uomo di politica e di partito, essendo uomo delle istituzioni, ho fatto il passo indietro per il bene del nostro gruppo perché volevo dare un'opportunità in più a questo gruppo dirigente, a questo partito per poter vincere e governare. Ed ecco che in maniera autonoma ho fatto quindi questa scelta e le ringrazio tutti quanti per il sostegno che mi hanno dato quando mi hanno indicato candidata a sindaco ma anche di valutare questa opportunità perché è importante, le scelte sono importanti e mi sento onorato di aver dato questa possibilità al mio gruppo perché la politica è condivisione e partecipazione collettiva e sentire una mia collega consigliere, non della mia parte politica, che si trova nella spiacevole particolare situazione di essere stata esclusa e defenestrata dall'attuale maggioranza senza un perché o una motivazione politica valida e per me motivo di grande e profonda amarezza. Un saluto d'avversario ma sempre corretto e onesto e leale quali io sono va a lei perché la dignità di una persona vale più di mille e mille voti. Non vogliamo strumentalizzare questa situazione ma io voglio da cittadino e da suo collega darle la mia solidarietà. Per dare un esempio che mai più nel futuro politico di San Pietro si verifichi un atteggiamento così di ostracismo perché offende la buona e sana politica a favore del cinismo e dell'ingordigio umano e noi questo, io lo volevo dire e perché voglio salutare l'assessore attuale, Loretta Zarrito, gli facciamo un applauso. Prima di iniziare questo intervento perché noi ci candideremo per il programma 2014-2019 però prima di iniziare mi corre l'obbligo però soffermarmi su alcune affermazioni fatte qualche giorno fa da questo stesso palco dal nostro attuale sindaco. Scusate ma mi voglio rivolgere direttamente a lui. Caro sindaco, le tue bugie sono come le fonti energetiche rinnovabili, sono bugie rinnovabili. Utilizzare il classico trucco semplice, quello di dire sempre la stessa cosa, porta a pensare che dicendo sempre la stessa cosa, quelle cose possano essere e diventare verità. È un classico trucco che noi naturalmente possiamo in maniera molto semplice, in due secondi osate dire, smentire perché le bugie che ha detto da questo palco sono eclaranti. Vengono smentite dalle carte, non dalle parole. È dal buon senso politico anche, ma soprattutto dalle carte. Le bugie dette qui sopra per snaturare il confronto sui tuoi fallimenti, additando tutte le colpe ad altri. Caro sindaco, svegliati, siamo nel 2014, non nel 2004, abbiamo dieci anni in più. E parlare sempre delle stesse cose non ti fa onore, come il programma che ha presentato della svolta, che parla del passato e non del futuro. Noi parleremo del futuro, ma altri parleranno su altri punti in cui ha detto delle bugie clamorose. Ma siccome ti sei rivolto a me, caro sindaco, dicendomi che io non parlo più del lici sul parco eolico, e qua o mi viene da ridere o mi faccio una risata, la stessa cosa. Perché quando parli di bilancio, parli di reversali, di mandati, parli di PEG, forse magari sei più esperto in potatura, sei più esperto nelle pratiche agronome, ma nelle pratiche di bilancio hai qualche deficienza e dimostri qualche deficienza. E se vuoi, caro sindaco, ti faccio pure un corso accelerato, ma gratis. Così ci confronteremo. Io, tu e chi vuoi tu. Qua, davanti al pubblico, portiamo le carte e le guardiamo tranquillamente. Perché ti dico, caro sindaco, che ogni volta da quattro anni, da cinque anni, ormai, tutte le volte, cari cittadini, nel Consiglio Comunale, che non c'è la diretta web, quindi voi non l'avete potuto sentire, dice sempre le stesse cose. Ah, guardate che sei marrabbio, vado alla Procura della Repubblica. E noi, quattro consiglieri, diciamo, ma vaccia la Procura della Repubblica. Se hai qualche elemento, prego, il Procuratore ti sta ascoltando, sia il Procuratore della Procura, sia il Procuratore della Corte dei Conti. Facci, quale problema c'è? Se ci sono dei problemi, è tuo compito andare. Io ti sfido, ti sfido di andare. Se non ci vai, da quattro anni che lo ripeti, cinque anni che lo ripeti. Se non ci vai, è perché non hai nessuna documentazione a supporto. Perché, vi ricordo, cari cittadini, se avesse un minimo di sospetto, un benché minimo sospetto, non ci penserebbe due volte. Io, intanto, ve lo dico perché ho la prova provata nei miei confronti, quindi non c'è problema, mi ha addirittura querelato con delibera di giunta perché avrei offeso le istituzioni. Caro sindaco, se hai qualcosa da dire, vai immediatamente, altrimenti il reato lo commetti tu. Noi siamo liberi e tranquilli, abbiamo fatto il nostro dovere, ma comunque ci sono altri che si difenderanno, senza problemi. Per quanto riguarda il parco eolico dell'ICI, lui mi imputa che non avrei parlato da qualche tempo, non avrei parlato di questa situazione. Ebbene, nemmeno dieci giorni fa, il 29 aprile, nel mio intervento, lungo intervento che lui ogni volta sbruffa, diciamo, ma quanto parli. E sì, perché caro sindaco, no? Perché io ti ho bloccato molte volte gli assestamenti, i rendiconti di bilancio, quante volte hai dovuto posticipare e addirittura bloccare il consiglio per rifare i conti. In quell'ultimo consiglio che abbiamo fatto, ho detto sempre le stesse cose, e ve li ripeto qua due secondi perché così ce lo cadiamo. Lui imputa alla vecchia amministrazione che la Gamesa all'epoca aveva mandato una lettera di annuncio il 7 maggio del 2009, quindi stiamo parlando sempre di cinque anni fa, purtroppo questo intermezzo lo devo fare, il 7 maggio del 2009 manda una lettera, la Gamesa, una lettera fax, non una lettera, un fax, all'ufficio finanziario, il 7 maggio del 2009, cioè dopo qualche giorno lui diventò sindaco, il 7 giugno, anzi, se l'avessi saputo una notizia del genere, me la sarei giocata in campagna elettorale all'epoca, no? Perché il parco eolico che lui tanto imputa alla vecchia amministrazione di qualsiasi nefandezza, questo parco eolico ha portato milioni di euro a lui e anche Ligi è un gentil omaggio della passata amministrazione. Quindi lui dice che la vecchia amministrazione ha dormito, mentre lui no, è stato sveglio. Dal 7 giugno 2009 all'11 febbraio del 2011, quanto mesi ci stanno? Forse ci sono quasi due anni, no? E' che spettato? Dormivi? Eh sì, dormivi. Se tu dici che dormivano gli altri, in una settimana dovevano svegliarsi, figurati in due anni, quanto dormivi? Eh sì. Per non parlare del fatto dei 240 mila euro dell'Ige e del parco eolico. La noi abbiamo fatto una battaglia, non erano 241 mila euro, erano 630 mila euro. Quindi già abbiamo perso 400 mila euro. Lui si vanta che ha recuperato 87 mila euro l'anno. Io gli dico che ne abbiamo persi 231 mila euro l'anno. Noi abbiamo le carte. Invitiamo a lui di portare queste carte insieme a noi e le mostriamo tutti al pubblico. Perché, caro sindaco, le verità sono facilmente evidenziabili con i documenti. Quindi noi facciamo, ti sfido, pubblicamente ti sfido, vieni insieme a me davanti a tutta questa platea e insieme pure alla tua platea naturalmente e a tutti i cittadini di San Pietro e Maida e controlleremo le carte. E vedrete, cari cittadini, che le cose non stanno così come erano. Questo era giusto per dire qualche cosa su quello che è stato detto, ma vorrei dire un'altra cosa, no? Lui dice che il nostro ente è messo bene. È benissimo, è messo bene. Ma lo sapete perché è messo bene? È perché tutti quanti stiamo pagando. La tares non è che è aumentata del 10%, del 230, del 240, del 300%. Abbiamo pagato tutti noi. È certo che è tutto bene. Perfetto. Loro dicono che è tutto a posto. Sì, perché paghiamo noi. È sempre così, no? Tutto va bene così. Nel 2012, vi dico questa, noi abbiamo avuto un bel buco di bilancio di ben 600.000 euro. 600.000 euro. 225.000 euro di disavanzo. 85.000 euro che erano già delle tasse aumentate, e io dico legittimamente, ma delle tasse aumentate tra acqua e spazzatura e 300.000 euro di debiti fuori bilancio. Fate la somma e arriviamo a 600.000 euro. Questa è la situazione dei conti di San Pietro a Mai. Da quest'anno abbiamo un altro debito fuori bilancio di 200.000 euro. Quindi la situazione non è tanta rosa. Ma dai, basta. Non parliamo più di questo passato. Andiamo avanti. Perché siamo nel 2014, parliamo del 2014 e del 2019. Oggi noi presentiamo questo programma. Ve lo spiego due secondi perché è importante spiegarlo. È fatto con un sistema social. Quindi portiamo l'innovazione anche nel linguaggio, dove c'è una proposta, una risposta e una controproposta. Leggetelo, è molto interessante perché ci sono molti punti che adesso i miei colleghi vi diranno. Io vi volevo parlare di un aspetto in particolare, l'aspetto dell'innovazione. Mi fanno segni che è passato un po' di tempo. Giusto per finirlo, avremo modo di parlare in tutta la campagna elettorale. Questa è giustamente una presentazione, ma sull'innovazione, la trasparenza dell'innovazione, ma già Renzi è intervenuto e interverrà, ma noi lo facciamo come programma, noi metteremo tutto online, tutte le spese. Se voi volete sapere quanto si spende di telefonata, di energia, di qualsiasi consumo, di qualsiasi spesa dell'amministrazione, lo dobbiamo mettere online. Dobbiamo mettere online tutto quanto c'è dal punto di vista della gestione. Io da casa mi devo collegare a internet e devo fare tutte le procedure burocratiche direttamente casa, ufficio, del comune, senza nemmeno andare al comune. La tracciabilità, la trasparenza arrecherà un enorme vantaggio a tutti quanti perché il sistema che andrà a regime sarà un sistema di produttività eccezionale. Quindi questo è un primo approccio, l'approccio sarà fatto con il cambio di gestione del software, sia il software proprio gestionale, sia il software del comune, dell'organizzazione amministrativa, in senso lato. Cambieremo molto. Cambieremo perché è importante che vi sia una nuova esperienza amministrativa. Io voglio concludere, quindi cercando di rispettare i tempi, avevo scritto molto di più. Volevo concludere così. È un programma con idee e progetti essenziali. Non per niente io ho messo come titolo, come canzone, anche la canzone di Marco Mengoni, L'Essenziale. Ascoltatela, perché paravrasando quella bella canzone noi vorremmo riportare l'essenzialità della vita gestionale e amministrativa nel nostro comune. L'essenziale. Ritorniamo all'essenziale. Ritorniamo ad avere una spesa ordinata, una spesa ottimizzata, soprattutto con l'aiuto dell'Unione dei Comuni. In questi cinque anni il nostro sindaco, che ha avuto l'onore di presiedere l'Aggiunta dell'Unione dei Comuni, ha mai fatto un'iniziativa dell'Unione dei Comuni? Mai. Però lui ha fatto tante iniziative con l'Unione dei Comuni, soprattutto per gli incarichi. Ci sono due vicende che ho bloccato io personalmente insieme a miei colleghi dell'Unione dei Comuni che riguardavano il nucleo di volatilazione e la CUC. Sono due organismi dove noi facciamo un'unione per ottimizzare i servizi e i costi e i sindaci, soprattutto il nostro sindaco, che fa? Mette per ogni comune un componente. E dove è risparmio? Non c'è risparmio. Ecco che allora noi nella nostra proposta abbiamo quattro proposte principali e li riassumo così. Le meno spese degli asset principali, quelle delle spese di base, quindi energia, acqua e spazzatura. Le entrate, noi da giugno vinciamo le elezioni, a giugno noi già abbiamo progetto pronto per impiantare subito cinque mini eoliche, cinque torri mini eoliche che ci frutteranno all'anno cento, dieci, centoventi mila euro di entrate extratributarie. Perché noi dobbiamo fare degli investimenti che producano un risultato per la cittadinanza. Con queste maggiori entrate e minori spese dobbiamo far pagare meno tasse ai cittadini e soprattutto dobbiamo far portare più gente a San Pietro Ammaida perché la più grande ricchezza di un popolo di una comunità non sono i soldi ma sono le persone. Centocinquanta, centottanta persone in più in cinque anni questo è il nostro progetto ci porteranno intorno a 500 mila euro di economia in più in questo nostro comune. Questi sono gli obiettivi essenziali perché io ho coniato uno slogan nei miei vari consigli comunali ma questo mi è uscito molto bene oltre altri che il sindaco ripete perché se ricorda ma questo riassume il nostro progetto meno San Pietrini più San Pietresi questo è il nostro progetto. Concludo con un appello per votare il nostro progetto perché a mio modo di vedere tutte queste idee propositi e permettetemi anche con la mia passione e le mie competenze unito al giusto confronto quotidiano si può affermare che dopo il 25 maggio la nostra vittoria non è nulla al confronto del meglio deve venire. Grazie. invito a presentarsi il signor Fabrizio Azzarito prego Buonasera buonasera a tutti è una delle poche volte che mi sento emozionato veramente siete in tanti buonasera allora io sono Fabrizio Azzarito penso mi conoscete in molti in tanti o forse tutti l'impegno che ho sempre dato per San Pietro Ammaida per la gente per il sociale e anche politico in questo punto lo conoscete tutti sono qui solo per la presentazione e lascio lo spazio ai ragazzi giusto perché hanno molto da dire buonasera a tutti appoggiateci votateci ricordate riscossa San Pietreso invito a presentarsi la dottoressa Maria Rosaria Costantino prego buonasera innanzitutto ringrazio tutti i presenti per aver accolto il nostro invito siete così grazie siete così numerosi che ciò non fa che accrescere la mia gioia e la mia emozione per chi non mi conoscesse sono l'ingegnere Maria Rosaria Costantino sono una giovane candidata ma seppur con i miei 27 anni sono sicura di poter dare molto al nostro paese come ben sapete la situazione economica attuale è a dir poco scoraggiante ma nonostante ciò io ho deciso di rimanere nella mia terra ho deciso di mettermi alla prova ho deciso di non dare ascolto a chi mi ha consigliato di andare altrove a cercare fortuna andare lì dove le mie competenze sarebbero certamente più apprezzate sono rimasta qui nel mio bel paese ho accettato questa sfida e l'ho fatto per amore sì perché io come tutti noi di Riscosa San Pietrese amiamo San Pietro a Maida mi è stato chiesto di dare un contributo per la rinascita del nostro paese e ho accettato con orgoglio perché ho trovato in Riscosa San Pietrese persone che con forte passione vogliono spendersi per la nostra comunità personalmente grazie alla mia formazione tecnica ho sempre sostenuto che l'efficientamento rappresenti la più grande risorsa a nostra disposizione a mio avviso amministrare in modo efficiente significa utilizzare in maniera economica le risorse disponibili non soltanto per il concreto risparmio economico che ne può derivare ma anche e soprattutto per il bene che facciamo all'ambiente intorno a noi e dunque natura e persone ecco in tale contesto vorrei allencarvi alcuni punti del nostro programma elettorale che vi invito cari concittadini a non sottovalutare primo tra tutti la valorizzazione dei rifiuti ossia la trasformazione del rifiuto da costo a risorsa economica mi spiego meglio nel paese saranno dislocati i doni compattatori che consentiranno ai cittadini di ottenere agevolazioni economiche in cambio dei propri rifiuti secondo punto l'impiego di lampade led per la pubblica illuminazione ciò consentirà di ottenere un notevole risparmio energetico a parità di luce e a beneficio dell'ambiente ancora per quanto riguarda la fornitura idrica installeremo contatori digitali wifi che ci consentiranno di individuare e localizzare tempestivamente le perdite idriche forse scusate le emozioni forse vi starete chiedendo quali possono essere i vantaggi visibili nel gestire in maniera efficiente le vostre risorse bene è semplice se la nostra comunità riesce a risparmiare lì dove è possibile farlo ci saranno altre risorse a nostra disposizione da investire diversamente altre risorse da impiegare in attività di tipo economico culturale e sociale cari concittadini come avete visto noi qui abbiamo le idee abbiamo le competenze e soprattutto abbiamo la passione per fare bene abbandonate ogni perplessità e il 25 maggio votate riscosta san pietrese grazie invito a presentarsi il signor Leonardo ferraiolo hai compensato il tempo di Giovanni buonasera e buona riscosta a tutti la vostra presenza numerosissima ci rende ancora più forti e motivati per affrontare con forza questi ultimi 15 giorni di campagna elettorale mi auguro che la vostra presenza sia legata alla curiosità del nostro programma e sui nostri candidati e non all'ascolto di una doverosa risposta alle malevoli insinuazioni riguardanti la nostra lista da parte dell'amministrazione uscente stasera non risponderemo perché oggi è la nostra festa ma state brucierti che ci saranno le dovute risposte al momento opportuno noi siamo qua perché non pretendiamo il vostro voto ma perché vogliamo conquistarcelo con le nostre idee non certamente per qualche lavoretto last minute o qualche incaricuccio dell'ultima ora o peggio ancora per qualche secchio di bitume che sanno di lifting elettorale noi vogliamo convincervi che la nostra idea di paese è migliore della loro tutto qua visto il poco tempo a disposizione volevo fare solo qualche piccolo esempio di ciò che è successo in questi cinque anni che paese è un paese in cui viene rifatta una strada una piazza se poi la mensa scolastica viene aumentata da 21 euro a 37 euro mi chiedo cosa è più importante un abbellimento che non produrrà utilità ad un'intera comunità se non ai pochi addetti ai lavori o garantire senza far fare ulteriori sacrifici ai tanti genitori che già si privano di molte cose per il bene dei propri figli un servizio di primaria importanza come la scuola beh per noi la risposta è ovvia noi puntiamo a diminuire la quota della mensa scolastica perché il nostro futuro sono soprattutto i bambini e la scuola un altro tema importante è la sicurezza in questi anni si sono verificati atti di inaudita violenza nella nostra comunità la bomba al mojitos auto incendiate atti intimidatori ripetuti furti nelle abitazioni private nei locali pubblici passate nel dimenticatoio ma io mi chiedo è o non è importante la sicurezza della nostra comunità cosa è stato fatto quali misure sono state adoperate per attenuare o ridurre queste scale sono di atti criminali nulla è vero la politica non può entrare direttamente nel merito ma può sicuramente fornire gli strumenti necessari e utili per gli inquirenti strumenti come la videosorveglianza pubblica come hanno fatto alcuni comuni limitrofi Curinga Borgia Girifalco Lamezza e altri 17 comuni dell'Interland catanzarese che hanno aderito da subito visto il tema molto delicato alla proposta sui contratti locali di sicurezza come d'avviso pubblico del Burcu 47 del 22 novembre 2013 evidentemente i nostri amministratori erano distratti dalle beghe interne perché per loro la composizione della loro lista era molto più importante dell'incolumità dei nostri concittadini ho elencato due obiettivi semplici e facilmente raggiungibili perché non sono nemmeno molto costosi e possono migliorare da subito sia socialmente che economicamente la vita quotidiana di tante e tante famiglie sanpietresi ci sarebbe tanto altro da dire ma non penso sia giusto rubare tanto tempo ai nostri candidati e quindi concludo invitandovi a guardare bene il nostro programma e vi invito con il cuore veramente di sostenerci con il massimo impegno e con il massimo entusiasmo perché cambiare verso si può il 25 maggio votate riscossa sanpietresa invito a presentarsi l'avvocato Domenico Giampà grazie grazie a Michela che è bravissima comunque è un valore aggiunto alla lista buonasera è un abbraccio caloroso a tutti quanti voi è sicuramente uno spettacolo meraviglioso da prossù vedervi così attenti e numerosi e soprattutto vedere che c'è una partecipazione della comunità in un momento importante come questo che è un momento elettorale in cui si cambia quello che è la classe politica che amministra il nostro comune ma la cosa più spontanea che a me viene a pensare è il ricordo di 5 anni fa 5 anni fa più o meno era giugno faceva più caldo magari però eravamo qui e ricordo il pensiero che mi viene ad esprimere che chi magari può pensare che quel percorso è stato chiuso che quei giovani ragazzi rampanti avessero finito le proprie energie si sbaglia di grosso perché coloro i quali hanno sfidato davvero l'impossibile coloro i quali si sono misurati ricordate Leonardo come magari era meno diciamo meno espansivo meno spontaneo ha costruito ci ha messo la faccia ci ha messo l'impegno ed è diventata classe dirigente abbiamo secondo me compiuto un bellissimo esempio di come si può costruire offrire una classe dirigente quindi questo questo è già un passo un passo in avanti un passo in avanti dicevo che così siamo diventati classe dirigente siamo diventati comunità abbiamo fatto in maniera in maniera costruttiva l'opposizione e dunque abbiamo costruito il cantiere un cantiere del centro-sinistra aperto a meravigliose esperienze della società civile e così siamo qui per proporvi un'idea diversa un'idea che vuole praticamente coinvolgere la comunità rispetto a quello che è l'idea e il modo in cui si vuole amministrare questo comune perché tra la prima cosa che si può notare rispetto alle esperienze che noi abbiamo abbiamo vissuto è che sono stati diciamo sono stati eseguiti dei lavori sono stati messi dei paletti in tutti i sensi che comunque hanno cambiato il nostro vivere sociale e quello che è mancato è stato il coinvolgimento dei cittadini quindi noi dobbiamo partire da un presupposto indefettibile che è un pilastro del nostro programma e che per qualunque tipo di decisione il cittadino venga coinvolto perché è vero che qualcuno cantava la libertà e partecipazione ma per noi carico di cittadini per il discorso sanpietrese democrazia e partecipazione e verrete coinvolti in tutte quelle che sono le nostre iniziative le nostre idee sin da subito io penso che nessuno di noi farà nulla se non prima vorrete coinvolti quindi siamo qui ci presentiamo ci presentiamo a voi e diciamo che con una certa spontaneità ma soprattutto vogliamo offrire qualcosa di nuovo che è mancato secondo me in questi cinque anni vogliamo superare una certa arroganza come si cantavano nelle canzoni con quella che è l'arma più profonda per recimolare consenso secondo me che è il sorriso vogliamo offrire il nostro sorriso la nostra umiltà la nostra messa a disposizione vogliamo sentirci più comunità vogliamo riscoprire quella parola antica che un tempo era diciamo alla base di qualunque tipo di associazione di qualunque tipo di movimento ed è alla base anche della nostra costituzione quella parola è la solidarietà in una fase difficile drammatica in una crisi economica sappiamo benissimo che abbiamo le generazioni che ci hanno preceduto i nostri genitori hanno un dovere importante che è quello di evitare che il benessere dei propri figli non sia al pari di quello che hanno vissuto e se voi ci pensate dal secondo dopoguerra oggi non è mai successo che magari i figli vivessero peggio dei loro genitori e anche in questo se noi non date bene da come è composta la nostra lista in maniera esemplare c'è questo passaggio di testimone tra diverse generazioni che se noi lo diciamo lo amalgamiamo quella esigenza di solidarietà viene fuori un modo nuovo di vivere la politica di costruire la società che noi vi stiamo offrendo questa sera e questo è l'esperimento che noi stiamo compiendo che è nella figura del nostro candidato al sindaco Nicola Giuliano il quale si è sempre contraddistinto comunque per essere un amministratore capace per offrire la sua disponibilità e per in questo caso secondo me posso dire una cosa che io penso sia dall'inizio rispetto anche come abbiamo costruito questa squadra noi dobbiamo dare un profondo sentito grazie dobbiamo dire un profondo sentito grazie a Nicola Giuliano per cui lui sta offrendo lui sta offrendo la sua figura sta mettendo a disposizione la sua figura per far costruire per far crescere quella classe dirigente di cui vi parlavo prima e in cui si consacra anche quel passaggio di testimone di generazione in generazione io sapete benissimo insomma sono il segretario provinciale dei giorni democratici quindi io sono contento e sono felice quando in una comunità piccola come quella di San Pietro e Maida c'è una partecipazione dei giovani in tutte le liste questo è qualcosa di molto positivo è fondamentale ma se voi mi chiedete qual è il quid plus qual è l'elemento aggiuntivo di questa lista è che ripeto cresciamo insieme con varie esperienze e non dimentichiamo i partiti non dimentichiamo i partiti perché mai come in questo frangente qui è forte la disaffezione l'elemento aggiuntivo così come altre poche realtà di San Pietro e Maida sono i partiti perché quando si creano le liste dobbiamo capire che ci sono dei passaggi ci sono dei filtri attraverso cui nascono alcune cose e che non è come fare un torneo di calcetto in cui si fanno ogni volta le squadre è un'altra cosa che non ci appartiene e poi si creano disastri quindi per concludere e senza farla lunga scusandomi se l'ho fatta lunga vi dico che noi abbiamo una grandissima opportunità quella di non solo passare il testimone a una nuova generazione con questo esperimento meraviglioso ma anche attenzione badate bene possiamo trasmettere e possiamo offrire una seconda chance e dunque un riscatto a chi magari in passato non ha diciamo non ha potuto dare il meglio di sé anche come centro-sinistra quindi è una seconda chance importante che non ci possiamo fare scappare e quindi io vi dico che è importante altresì visto che sentiamo che comunque la battaglia la possiamo vincere ma sono importanti le energie di tutti non smarriamo queste ore spieghiamo l'importanza di questo progetto all'amico al cugino al vicino spendiamoci tutti quanti insieme passiamo una parola e facciamo capire quanto è importante quanto è brillante quanto è sentito il progetto della riscorsa sanpietresa dobbiamo ritrovare l'orgoglio perduto dobbiamo convertire quelle che sono le disaffezioni quello che è il malcontento in energia positiva perché queste battaglie vengono vinte da chi alla fine riesce a dare fino all'ultimo pezzetto di cuore finché le possa vincere e vadete bene che la nostra tradizione la nostra storia si è sempre contraddistinta per gente che ha un cuore un cuore profondo quel cuore che riempie le piazze e che porta la gente a votare anche per l'appartenenza anche perché credo in un mondo migliore fatto di sogni ma fatto soprattutto di tanta storia quindi sarà una festa meravigliosa il 26 maggio perché le strade si riempiranno di gente che finalmente vuole superare questo momento e vuole vuole gridare al mondo che è un paese diverso un paese diverso un paese essenziale un paese normale può tornare anche San Pietro e Maite grazie vi abbraccio tutti quanti perché siete meravigliosi invito a presentarsi il signor Angelo Michele Nosdeo prego buonasera a tutti i presenti io credo che non abbia bisogno di presentazioni mi conoscete tutti quindi ruberò soltanto pochi secondi stasera non vogliamo fare polemiche perché è principalmente una serata di festa ma visto che il sindaco Putano il sabato scorso era affetto da cecità totale e non trovava traccia di niente perché non trovava traccia delle ripetute contestazioni di Giovanni Ravoli sul lice del parco eolico non trovava traccia degli acconti relativi al parco eolico non trovava traccia dei 427 mila euro dei pitti 14 relativi all'impiantistica sportiva proprio su questo argomento voglio fare una breve puntualizzazione caro sindaco lei deve sapere anche se capiamo bene che lei ha fatto solo finta di non ricordare che con una parte di quel finanziamento perché ribasso l'altro ha tenuto la regione abbiamo prima di tutto pagato le competenze tecniche dell'ingegnere Grillo al quale avendo elaborato un progetto molto più costoso intorno a 4 milioni di euro solo grazie alla reciproca collaborazione abbiamo potuto liquidare una parcella più contenuta quindi abbiamo provveduto a sistemare bagni spogliatoi gradinate e cosa fondamentale abbiamo provveduto a far sistemare 4 torri faro illuminando ai giorni il campo sportivo altrimenti sarebbe stato infraticabile sindaco fatti una chiacchierata con il presidente della polisportiva di allora che ti potranno aiutare a ritrovare la memoria infine cosa più importante abbiamo realizzato la copertura del campetto della scuola media ora innalzata al rango di palazzetto dello sport prima erano pallone come vedi penso che queste siano delle tracce delle tracce ben visibili peccato che sabato sera la vista ti sia rappannata ma come ho detto prima non vogliamo fare polemiche perché stasera preferiamo principalmente festeggiare avremo modo nei prossimi giorni di chiarire molte altre cose quindi io faccio un appello a tutti i presenti di sostenere e votare la lista numero due riscosta San Pietresi candidato a sindaco Nicola Giuliano grazie buonasera a tutti invito a presentarsi il signor Franco Pallaria prego buonasera a tutti i presenti pur essendo stato tra gli ultimi a candidarmi ho le idee chiare sul progetto che abbiamo intenzione di realizzare con riscosta San Pietrese da realizzare soprattutto nel settore dell'olivicoltura è evidente a tutti la crisi lavorativa che ci circonda e quindi dobbiamo concentrarci con determinazione su quello che la nostra zona ad alta vocazione agricola ci permette il nostro paese San Pietrammai da città dell'olio d'oliva necessita di scoprire nuove figure professionali ad esempio l'assaggiatore di oli è una figura è un professionista che riconosce qualità e caratteristiche dell'olio per noi tanto prezioso è una figura di prestigio che conosce in maniera profonda tutto ciò che riguarda l'oro verde e il suo valore salutistico e anche quello nutrizionale pertanto i corsi di assaggiatori di oli che esistono già a livello regionale e nazionale sono necessari e sono dovuti ad un paese come San Pietro Ammaida che vive di questa economia questi corsi ci permetteranno di migliorare la qualità del nostro olio e di valorizzarlo sui mercati anche internazionali e per questo il nostro territorio ha bisogno anche di poter effettuare il panel test uno strumento di analisi sensoriali effettuato da un team di 12 esperti che tramite l'assaggio valuta e certifica le caratteristiche organolettiche dell'olio extravergine di oliva realizzeremo anche corsi specializzati in potatura per affinare le tecniche e migliorare la qualità dei nostri oliveti cerchiamo quindi di rilanciare il settore olivicolo e sfruttare al massimo il nostro potenziale e proprio per sfruttare al meglio ciò che il paese ci offre ci impegneremo a realizzare un'area fieristica da allestire nei locali della struttura non ancora completata della zona Giardini Chiovilla in modo che San Pietro Maida possa essere il fulcro dell'Unione dei Comuni e possa portare flussi di gente a visitare e a conoscere la nostra comunità motivo per cui negli eventi annuali troverà spazio anche l'avvonimento Olivando come avrete potuto vedere anche dal programma con lo scopo di mettere in risalto la bontà del nostro olio la valorizzazione dei nostri prodotti e i relativi produttori locali anche agli occhi di esperti del settore come i professori dell'Università degli Studi di Perugia e l'Università degli Studi della Calabria che saranno presenti alla manifestazione e condivideranno con noi la loro cultura attraverso nessun apposito convegno queste sono solo alcune delle strategie queste sono alcune delle strategie che vi proponiamo per risollevare l'economia di un paese e di onesti lavoratori grazie a tutti i partecipanti invito a presentarsi il dottor Domenico Serio prego buonasera siete tanti raccolgo subito l'occasione per ringraziarvi per la presenza numerosa per l'affetto che dimostrate ai nostri confronti penso che ciò sia sintomo di un interesse e di un entusiasmo comune che ci spinge a partecipare unite a questa campagna elettorale la maggior parte di voi mi conosce vedo molti visi conosciuti e tanti amici tra il pubblico per quelli che ancora non mi conoscono mi presento questa sera mi chiamo Serio Domenico ho 35 anni e sono laureato in storia per la seconda volta dopo l'esperienza di 5 anni fa concorro insieme alla mia lista riscossa a San Pietrese alle prossime lezioni amministrative che si svolgeranno nella giornata del 25 maggio non posso nascondere i miei sentimenti sarei un ipocrita se vi dicesse che questa sera non sono emozionato a stare qui in piedi davanti a voi ma è anche vero che l'emozione che sento questa sera non è la stessa di 5 anni fa la scorsa volta emozione e anche un po' di imbarazzo sono stati dettati sia da inesperienza politica che dalla timidezza di presentarsi per la prima volta su un palcoscenico così importante questa sera l'emozione che sento è legata all'entusiasmo e alla fiducia che voi sapete trasmettermi è legata a quella voglia di cambiamento che tutti i giorni quando parliamo per strada colgono ognuno di voi sono fiero di far parte della lista riscossa a San Pietrese personalmente vi garantisco che in caso di vittoria mi impegnerò con il cuore e con l'anima a dare il meglio di me ascolterò i vostri consigli i vostri suggerimenti metterò le mie capacità a disposizione di tutta la comunità dando sempre il massimo e cercando di sbagliare il meno possibile questa è l'unica cosa che mi sento e che posso promettervi il mio impegno è la volontà di dare sempre il massimo in questo periodo di forte crisi economica che stiamo attraversando è facile fare con l'elezione amministrativa delle porte è facile fare altri tipi di promesse il problema poi è mantenerle per questo motivo della lista riscossa a San Pietrese ben consci di quanto appena detto non abbiamo intenzione di impostare la nostra campagna elettorale su false promesse ma al contrario porteremo avanti le idee e le proposte che abbiamo illustrato nel nostro programma elettorale è uno dei punti dove sicuramente ci concentreremo con maggior forza sarà la scuola perché teniamo a cuore il futuro dei nostri ragazzi e perché noi della lista riscossa a San Pietrese siamo dell'idea che sostenere la cultura è il migliore investimento possibile in ottica futura abbiamo in mente diverse idee che porteremo avanti la nostra idea di base è quella che nei prossimi anni speriamo che tutti quanti i ragazzi a prescindere dalla condizione economica della famiglia di appartenenza abbiano la possibilità di potersi esprimere al meglio in campagna elettorale e nei comizi avremo tempo in modo di approfondire questi temi discutendo in modo dettagliato di idee e progetti che in caso di vittoria realizzeremo e porteremo avanti adesso prima di salutarvi passando la lista passando la parola ai miei compagni vi chiedo il prossimo 25 maggio di darci una mano a cambiare le cose sono sicuro che insieme possiamo farcela quindi datevi una mossa e votate la riscossa invito a presentarsi il signor Romolo Varrese Buonasera a tutti siete tanti io sono una persona molto semplice e come tale mi voglio presentare a voi questa è la mia prima esperienza politica perdonatemi ma non sono un grande oratore ma spero di dare di dare il mio contributo soprattutto nel campo dell'immigrazione essere figlio di emigrati nel mio recente viaggio in Svizzera per andare a trovare i nostri emigrati ho potuto constatare che sono molto critici nei confronti dell'amministrazione comunale perché si sentono cittadini di serie B che sono stati abbandonati a loro stessi spero di essere eletto e di fare da tramite tra l'amministrazione comunale e gli immigrati per poter migliorare i rapporti e garantire la nostra vicinanza della nuova amministrazione comunale ringrazio tutti quelli che mi stanno sostenendo i miei compagni di lista il candidato assinta con Nicola Giuliano per la stima che stanno esprimendo nei miei confronti grazie invito a presentarsi il più giovane dei compagni in lista il signor Domenico Spinelli buonasera a tutti mi presento sono Domenico Spinelli ho 21 anni mi sentite? buonasera a tutti sono Domenico Spinelli ho 21 anni e frequento l'ultimo anno dell'istituto tecnico-economico Valentino De Fazio alla mezza terme volevo iniziare subito ringraziando tutta la mia lista per l'opportunità datami che accolgo con grande entusiasmo e grande voglia di fare fare per il mio paese perché in qualità di giovane e cittadino è doveroso impegnarsi nella società per migliorare la qualità della vita e la prospettiva futura di noi giovani la decisione di candidarmi non è stata semplice molte sono state le perplessità legate alla mia giovane età o alla mia totale inesperienza nella politica attiva ma dopo varie riflessioni sono arrivata alla conclusione che la longevità o l'iscrizione in un partito non faccia molto peso anche perché ormai da qualche anno mi rendo conto che mi rendo attivo nella scusate perché ormai da perché ormai da molti anni mi rendo attivo nella maggior parte degli eventi pubblico-sociali che insieme ad altri giovani riusciamo a creare per quanto mi riguarda prometto il massimo impegno nelle attività che già svolgo come ad esempio il carnevale di San Pietro a Maida su questo argomento volevo soffermarmi a spendere due parole perché ormai da tre anni alcuni ragazzi tra cui io si impegna per me si intera a lavorare la realizzazione dei carri e il mio impegno è quello di mantenere tutto questo lavoro nel corso degli anni indipendentemente dal risultato perché creare quei momenti di gioia allegria e di aggregazione di tutta la comunità è la più grossa soddisfazione altro punto che volevo trattare in questo breve intervento è sicuramente la questione dello sport locale a San Pietro ci sono diverse attività sportive a livello agonistico che nel corso degli ultimi anni non hanno avuto sostegno a sufficienza dell'attuale amministrazione ma nonostante ciò con l'impegno di molte persone che ci mettono anima e cuore sono riuscita a conseguire ottimi risultati sportivi il mio e il nostro impegno come lista sarà quello di aiutare anzitutto le famiglie che si offriscono dei servizi sportivi e la società sportiva del nostro paese inoltre migliorare le strutture che abbiamo già a disposizione come ad esempio il palazzetto dello sport e farlo usare tutte le scuole e tutte le associazioni sportive infine per quanto riguarda il campo sportivo Totomanduca sarà in cantiere già la realizzazione del Mante del Bosso ora concludo riconfermando il mio entusiasmo per questa nuova avventura sperando di cominciare dopo il 25 maggio in un paese con più cittadini meno tasse più entrate e meno spese vota le scosse in Pietres grazie a tutti invito a presentarsi il dottor Nicola Serratore grazie anche se calco molti palchi mi emoziono sempre quindi perdonatemi io volevo dire io dopo questa candidatura immaginavo me me quando ero bambino immaginavo che c'era un bambino appassionato di musica di arte e di San Pietro Ammaida c'era un bambino che inizia a conoscere la politica grazie alla passione della sua famiglia grazie ai suoi zii soprattutto a Ciccio Serratore che molti se lo dimenticano molti se lo dimenticano e grazie alla passione anche del maestro di scuola il mio primo maestro Nosdeo Michelangelo da allora la passione la passione per tutto ciò che riguarda il sociale è cresciuta fino ad oggi io mi sono occupato finora di cultura o di turismo ma amo anche la politica amo la politica attiva quella fatta di coerenza quella che fa coincidere sempre le parole con i fatti concreti amo la politica ma quella vera quella che ci fa piangere ancora per un ideale quella che vede il proprio paese non come un campo di battaglia o un campo sportivo tra diversi rivali amo la politica che sa collaborare con saggezza che sa andare oltre la solita politica amo la capacità critica e costruttiva e non la politica a modi fan San Pietro non è la tifoseria della Juve o del Milan e quindi mi piace immaginare il mio paese con una politica seria mi piace immaginare il mio paese con una grande come una grande casa all'aperto e San Pietresi come una grande famiglia talentuosa e il territorio San Pietrese come un grande tesoro ancora da valorizzare quest'anno per esempio con l'evento con l'evento Ali sul Mediterraneo festa del libro e della cultura abbiamo scovato 25 nuovi talenti tra scultori pittori biologi danzatori musicisti scrittori e artisti di ogni genere esiste quindi un grande fermento artistico e culturale che ha bisogno di essere sostenuto con forza amo la politica quindi che non sia contente di essere un'amministrazione ordinaria ma sa diventare all'occorrenza un grande laboratorio di idee e di progetti amo la società San Pietrese che non dimentica mai la sua ricca storia contadina anzi che non si ne vergogna pure della sua bellissima storia contadina mi viene in mente che dagli anni 60 ad oggi ci siamo allontanati dai tesori della campagna abbiamo negato la nostra meravigliosa e sana civiltà contadina come se non volessimo più essere quello che eravamo prima ovvero fieri calabresi orgogliosi della loro terra fertile forse non so perché forse volevamo fare gli americani forse volevamo fare quelli moderni sposando l'idea che l'industrializzazione o la chimica potesse salvarci o arricchirci e invece dopo tanti anni ci siamo accorti che era solo un'illusione un esempio è per tutti la grande amarezza che si chiama Sir ettari ed ettari di terra rigogliosa vicino al mare regalata ad un'industria fantasma inutile e dannosa che ha spezzato i sogni e ha lasciato solo inquinamento e veleni ancora in atto mi viene in mente quello che ha prodotto questa corsa all'industrializzazione fantasma cosa ha prodotto ha prodotto ancora immigrazione soprattutto in Svizzera famiglie e figli talentuosi che scappavano da San Pietro in cerca di fortuna noi eravamo solo quelli degni solo di rattaccare scusate ma sono emozionato noi eravamo degni solo di raccattare voto voti per quelli di Roma per la politica di Roma ma in realtà qui serviva una politica seria attenta è un'agricoltura all'avanguardia ma possiamo ancora salvarci con i nostri tesori semplicemente con i nostri tesori con il turismo con il turismo sanpietrese perché nessuno parla di turismo sanpietrese e a me mi scoccio ogni volta che scendo col treno passare da Falerne e dire Falerne è un paese turistico Gizzeria è un paese turistico poi un bellissimo salto Pizzo è un paese turistico e San Pietro San Pietro non lo nomina nessuno San Pietro è un paese a vocazione turistica basta valorizzarlo e quindi c'è bisogno di una politica seria per favore quindi non accontentiamoci San Pietro deve essere un punto di eccellenza internazionale bisogna valorizzare la nostra bella montagna la nostra campagna la nostra memoria paesaggistica e storica con un marketing territoriale che avvico il turismo tanto atteso qualche mese fa un ragazzo perito meccanico mi diceva devo partire in Svizzera per lavoro certo è difficile trovare lavoro ma come sarebbe stato se molti ci avessero suggerito compreso me alla fine della terza media ci avesse suggerito altre scelte altre scelte come come per esempio la scuola agraria nessuno ci parlava di scuola agraria perché non era di moda e invece la scuola agraria è un grande tesoro di valorizzazione forse perché ancora una volta negavamo la nostra storia la nostra civiltà non vedevamo la ricchezza del territorio a portata di mano il risultato un esercito di giovani diplomati ancora e ragionieri periti industriali a caccia di un lavoro difficile ovviamente da trovare mentre le nostre campagne rimanevano piano piano in silenzio pochi agronomi pochi assaggiatori di olio come diceva l'amico Pallaria pochi esperti di agricoltura quindi dobbiamo invertire la rotta ripartire dalla cultura dell'ambiente consigliare anche altri tipi di studi ai nostri figli spero che il mio figlio che ci ha sei mesi Timoti vada alla scuola agraria e basta così periti dobbiamo invertire la rotta quindi avviare per esempio nuove tipologie sostenere nuove tipologie di lavoro avviare per esempio le fattorie didattiche che creano tanto turismo scolastico ripartiamo quindi da noi stessi dai nostri meravigliosi prodotti per far crescere il lavoro specializzato e l'economia sanpietresi dobbiamo costruire progetti che mirino alla qualità della vita di tutti al benessere di tutti al turismo scolastico e a quello internazionale non dobbiamo inventarci niente non dobbiamo veramente inventarci niente è tutto già intorno a noi basta aprire gli occhi per esempio io sono riuscito a coinvolgere esperti internazionali di turismo che sono venuti qualche settimana fa e stanno già proponendo sanpietro a maida ai tour operator olandesi e belgi e noi ancora forse non ce ne siamo nemmeno accorti della grande bellezza di sanpietro a maida abbiamo progettato quattro itinerari turistici con loro due su corda e due a lagorà e c'era questa signora soprattutto questa signora che diceva woki ani woki ani allora io ho detto ma che vuol dire sto woki ani e lei diceva vuol dire mamma mia mamma mia in olandese perché lei diceva che a volte si vendono dei viaggi si fanno 20 chilometri per arrivare ad un punto panoramico un punto panoramico e lei è venuta qui a dire ma voi avete mille punti panoramici meravigliosi ma avete capito lei mi diceva che sanpietro può vivere anche di turismo e quindi dobbiamo innamorarci della nostra natura che sta intorno a noi e guardare sanpietro con occhi di uno straniero e allora forse sì che vedremo la reale bellezza il reale tesoro altrimenti è come un mendicante saremo come dei mendicanti un mendicante che vive senza sapere di avere un diamante cucito dentro la propria giacca quindi non lo sa e quindi continua a vivere da mendicante e allora cambiamo quello che c'è da cambiare miglioriamo quello che c'è da migliorare ma valorizziamo quello che già abbiamo e valorizziamolo con forza quindi va bene il valore visibile certo come per esempio l'arredo urbano certo mi piace ma non basta se non è pieno di valori invisibili valori invisibili come l'istruzione il dinamismo sociale gli eventi culturali e ancora una volta il turismo tutto ciò per dire che siamo tutti collegati da fili invisibili se facciamo il bene degli altri e il bene del territorio stiamo facendo anche il nostro bene qui non si tratta di vincere o perdere le sfide elettorali ma significa semplicemente questa festa caricarsi di responsabilità quindi diamoci una mossa oppure diamoci una scossa o meglio diamoci una riscossa San Pietresa grazie cari signori il mio compito di presentare e presentarmi si sta concludendo chiedo un applauso e chiedo così il nostro candidato sindaco capolista di prendere la parola grazie buonasera a tutti alla fine io pensavo che ero quello più tranquillo pensavo che ero quello più tranquillo invece alla fine sono il più omissionato nonostante ormai sono forse più di 30 anni che faccio politica che faccio ogni tanto degli interventi però alla fin fine c'è sempre quella difetta credo che questa sera sarei ricordata negli anni futuri per come i giovani candidati in una lista amministrativa si sono proposti ai loro concittadini noi non possiamo immaginare un futuro senza i nostri giovani le loro idee progetti speranze perché saranno loro a costruire il nostro e il loro futuro grazie e spero dal profondo del cuore che siate voi i prossimi amministratori di San Pietro Ammaida perché ve lo meritate davvero da parte mia penso di aver maturato quella esperienza necessaria per guidarvi e insieme a voi risolvere i problemi della nostra comunità stasera pubblicamente volevo ringraziare tutti i partecipanti delle tre liste non solo la nostra perché non è facile mettersi in gioco e ringraziare in particolar modo i giovani che si presentano per la prima volta io parto dal principio che chi si candida lo fa perché vuole dare il meglio di se stesso per quel bene comune che è il progresso sociale economico e culturale del nostro piccolo paese sono poi quelli come me che ormai sono anni che fanno politica e sono stati amministratori nella nostra comunità e che nel bene o nel male hanno fatto la storia del nostro paese sicuramente ho fatto anch'io qualche errore ma sempre rispettando le regole e soprattutto le persone a qualunque certo sociale loro appartenessero stasera io ero pronto a fare festa insieme ai nostri candidati insieme a voi ma lo dico con rammarico scusate un attimino stasera lo dico con rammarico ero pronto a discutere con voi del futuro del nostro paese di presentarvi insieme agli altri candidati i nostri progetti per cercare di migliorare la qualità della vita della nostra comunità certamente più tardi illustrerò qualche progetto mentre gli altri li presenteremo nei prossimi giorni ma mi premeva visto che sono stato tirato in ballo dal sindaco uscente chiarire alcune affermazioni che ha fatto durante la presentazione della sua lista circa l'anticipazione di alcuni canoni del parco eolico che poi non sono tre per un importo di 287 mila euro ma sono quattro per un importo molto superiore questo significa come il nostro sindaco stia poco attento ai bilanci comunali voglio intanto solo ribadire che senza ritornare sul lice perché già ne ha parlato Giovanni il parco eolico piano di corda la cui realizzazione da loro è stata molto stoccolata in tutti i modi è stato e sarà la più grande e la più importante opera pubblica mai realizzata nel nostro comune questa ha garantito e garanterà risorse finanziarie per i cittadini e per le casse sempre più vuote del nostro comune fatta questa doverosa premessa e pur capendo che il sindaco Putame sabato sera lasciandoci eccitare dalla sua platea non ha resistito alla tentazione di lanciare insonazioni maliziosi e volutamente ambigue nonostante qualche giorno fa ha convocato me e Andrea Davoli chiedendoci di impostare la campagna elettorale sui contenuti e sui programmi senza andare sul personale stasera voglio pubblicamente denunciare anzi voglio condannare davanti a tutti voi il tentativo maldestro la maliziosità per non dire la cattiveria con cui ha cercato di infangare l'onestà la dignità l'onorabilità del già sindaco Arena e della sua amministrazione e di cui menoro di essere stato il suo vice sindaco quando ha affermato che delle tre anticipazioni tra il 2006 e il 2008 non vi è traccia non vi è traccia perché queste anticipazioni e questi soldi non sono mai arrivati al comune sapendo benissimo che quegli anticipi sono finiti nei bilanci comunali come lo dimostrano le riversali che io c'ho qua sotto questi sono documenti del comune dove le quattro annualità sono state regolarmente versate alla tesoreria comunale e quindi chiunque di voi e voi cittadini può verificare la verità questi pensamenti sono stati fatti dalla Gamedese Energia sotto le voci provenienti parco eolico alla tesoreria del nostro comune e sa benissimo che nessun amministratore può prelevare o stanziare somme di denaro perché questo compito è riservato ai responsabili del servizio finanziario e poi non è che ci vuole un'arca di scienza detto la Senza Gamedese bastava alzarsi dalla sua poltrona alla quale è legata morbosamente e andare nell'ufficio della regioneria e lì gli avrebbero spiegato come sono stati spesi quei soldi pagando regolarmente i stipendi cosa che adesso non viene fatta garantendo servizi senza aumentare le tasse anticipando spesso amministratore lavoratori dell'LPU e LSU e pagando debiti perché pure noi ne abbiamo trovati tanti ti ricordi il vice sindaco senese quel debito di 200 mila euro solo per un progetto senza parlare delle tante sentenze passate in giudicato inserite in bilancio e pagate all'amministrazione arena ma il dottor Putame non si è alzato da quella sedia per due motivi il primo perché avendo capito che l'elezione ormai li sta perdendo voleva giocarsi quella carta degli anticipi per infangare delle persone per bene per cercare poi alla fine di decimolare qualche manciata di voti in più la seconda perché era talmente tanto preoccupato che se lasciava libera la poltrona al suo ritorno l'avrebbe trovata occupata dal suo vice e allora per lui erano cavoli amari caro sindaco tu puoi accusare l'amministrazione arena se era necessario costruire o no il parco eolico ma non puoi mettere in discussione l'onestà degli amministratori e come che la gente non consenterebbe a lui noi abbiamo avventuto il bosco abbiamo avventuto il bosco l'amministrazione tu hai avventuto il bosco è come se qualcuno dicesse per come l'hanno venduto con un prezzo sacciato quasi regalato è come se qualcuno dicesse che cosa ci sarebbe sotto questo bosco nel senso proprio che molto probabilmente sarebbe delle cose non molto chiare ma io non posso mai contestare queste cose io gli posso contestare la vendita di se stessa perché si potrebbe fare almeno anche di venderla anche perché conoscendo la storia la sua storia politica non mi sarebbe mai permesso di dire qualcosa di irrispettoso come ha fatto lui lui sta impostando la sua compagna politica contro l'amministrazione arena ma ma vedi che noi noi abbiamo amministrato cinque anni fa gli ultimi cinque anni c'è stato tuo ad amministrare questo comune e ti sei ti sta rappresentando agli elettori per essere confermato e tu sarai giudicato per tutte le scelte amministrative che hai fatto e non pensare che dei grandi tuoi avversari politici ti porteranno più consensi scusate per questo sfogo non è il mio carattere io sono una persona tranquilla serena quindi andare a fare queste cose mi dà pure fastidio mi dà pure fastidio ma quando ci vuole poi alla fine ci vuole io voglio andare avanti in questa campagna elettorale con la speranza che i toni vengono abbassati e voglio fare stasera un invito agli altri candidati a sindaci parliamo di contenuti di programmi perché sono questi i temi che interessano i nostri cittadini non parliamo di cose personali perché finiremmo a denigrarci uno con l'altro e perderemo di vista l'obiettivo principale che è portare avanti economicamente e socialmente il nostro paese adesso voglio illustrare soprattutto il nostro motto qualcuno ne ha già parlato nei loro interventi dei candidati ma io lo voglio un pochettino più specificato fino in fondo più cittadini meno tassi più entrate meno spese cominciamo con più cittadini il nostro paese si trova oggi a rivivere uno spopolamento tipo anni 60 70 con un tasso di scopazione giovanile altissimo questo comporta l'allontanamento dei nostri giovani che sono le risorse più importanti del nostro paese anche voi siete accorti che diversi i nostri giovani vanno in Svizzera alla ricerca del lavoro e non sempre riescono a trovarlo quindi un avvisatore attento dovrà cercare tutti i modi possibili e immaginabili per dare un sollievo a questo fenomeno noi ne abbiamo individuato alcuni altrimenti saranno anche altri per esempio dare un incettivo fiscale con uno sconto sulle tasse comunali a quelle imprese locali che assumeranno i nostri giovani disoccupati favorire la costruzione di una cooperativa di giovani sanpiatresi a confidare una parte dei servizi comunali come pulizia delle ville delle strade dei servizi domicili degli anziani e tante altre cose aiutare i giovani che vogliono crearsi una famiglia pagando loro una parte del fitto della casa e non facendogli pagare per tre anni le imposte comunali tutto questo porterà non solo a giattenare i nostri giovani ma anche a far ritornare qualcuno che vuole impiantare le dici a San Pietro la maida perché tutti sappiamo che più persone come ha detto Giovanni più persone ci sono più si spende e più l'economia del paese sale meno tasse purtroppo negli ultimi cinque anni le tasse comunali sono aumentate in maniera sproporzionata non è mia intenzione criticare l'amministrazione uscente perché ognuno fa delle scelte e poi si prende la responsabilità delle scelte fatte alla fine sono gli stradini con il loro voto a decidere se quelle scelte erano giuste o sbagliate vi faccio qualche esempio questo l'ha fatto Leonardo tic di mezza scuola da 21 euro a 37 euro mensili tic di mezza anziani da 42 euro a 45 euro mensili addizionale IRF dallo 04 allo 08 questo significa che chi pagava 20 euro al mese ora ne paga 40 energia elettrica luminale cimitero da 13 euro a 21 euro acqua di produzione e fognatura aumentata del 20% con delibera numero 30 del 2011 2012 tarso aumento del 20% con delibera del 23 11 2012 senza parlare della tassa che è stata una sdangata per le tasche delle famiglie sanpiatresi dicevo meno tasse noi andremo incontro alle famiglie bisognose con tariffe scontate adattate per ogni singolo nucleo familiare per gli immigrati provvederemo il pagamento delle tasse con sconti adeguati rispettando la temporaneità in cui vivono effettivamente nel nostro paese agevoleremo il pagamento delle tasse arretrate mediante un pagamento arretrale in 24 mesi senza sanzioni ed interessi più entrate e meno spese iniziamo dalla spesa d'energia la riduzione della spesa d'energia pubblica si può ottenere con la risoluzione di tutti i nostri 1.050 punti luce con lampi di led ad alto valore aggiunto di minor consumo risparmiando circa il 50% tra consumo e manutenzione con un recupero al netto di spese di circa 70 milioni all'anno costruzione di un minoparco eolico comunale da uno studio già realizzato con 5 mini torre eoliche al netto di tutte le spese e il mutuo investimento produrrà un utile netto di circa 90 mila euro all'anno spese acqua un altro punto dolente è il servizio idrico del nostro paese si è già fatto qualcosa in termini di costruzione di pozzi per l'accumulo dell'acqua ma senza un progetto serio che riduca le perde avendo una rete idrica obsoleta non riusciremo mai a ridurre questa spesa noi ci proponiamo di investire risorse per iniziare anno dopo anno a sistemare la rete idrica in modo da tenere un risparmio consistente rifiuti con la raccolta della riferanziata abbiamo iniziato un percorso che diventa essenziale sia per l'ambiente sia per la riduzione dei costi di smaltimento noi vogliamo andare oltre e questo lo diceva Maria Rosaria pensiamo utilizzare l'innovazione dei prodotti di ciclo con cozzonotti ad hoc che triturno plastica vetro e alluminio e di organizzare la raccolta e la venda del materiale agitato questo comporterà un risparmio in termini di costi e in più creerà dei posti di lavoro per i nostri giovani nel programma che vi abbiamo distribuito troverete tutti gli altri punti sui quali vogliamo intervenire incominciando dal sociale finendo lo sport punti che tratteremo nei prossimi giorni io la ferisco qua ringraziandovi per avermi ascoltato con pazienza e chiedo chiedo a se mi affianca se mi affianca Michela concludiamo insieme dicendo uno per tutti tutti per il nostro paese votiamo riscosta sanpietrese grazie